Due importanti risultati per il settore faunistico venatorio della Campania. Il Consiglio regionale campano ha approvato il piano faunistico venatorio regionale, mentre la Giunta regionale ha dato il via libera alle modifiche del calendario venatorio 2024-2025, preapertura 7, 8 e 11 settembre. Continuiamo nel solco del buonsenso delle indicazioni tecnico-scientifiche pervenute dall'ISPRA, dal Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale e dalle associazioni di settore. Lo ha annunciato Nicola Caputo, Assessore dell'Agricoltura della Regione Campania, a margine della riunione della Giunta regionale. A seguito dei pareri favorevoli di ISPRA e Comitato Faunistico Venatorio Nazionale, spiega Caputo, la Giunta ha adeguato il calendario venatorio 2024-2025, consentendo la preapertura della caccia nei giorni 7, 8 e 11 settembre 2024 per le specie cornacchia grigia, gazza, ghiandaia e colombaccio nella sola forma di caccia d'appostamento. Il prelievo venatorio generale è previsto dal 15 settembre. In particolare le modifiche approvate si riferiscono alla specie colombaccio che potrà essere cacciata fino al 16 gennaio 2025. Sarà consentito inoltre il prelievo venatorio ordinario dal 21 settembre per le specie porciglione, fagiano e quaglia. Nell'ultima seduta il Consiglio regionale campano, prosegue l'assessore, ha anche dato un voto favorevole al piano faunistico venatorio regionale, che rappresenta un fondamentale strumento di governo e pianificazione faunistico venatoria del territorio agrosilvo pastorale regionale, attraverso cui la regione definisce le proprie linee guida per quanto concerne le finalità e gli obiettivi di gestione della fauna selvatica omeoterma e la regolamentazione dell'attività venatoria nel medio periodo. Questo risultato è stato ottenuto grazie al contributo di tutti coloro che hanno partecipato alla redazione del piano e dalle sue modifiche, attraverso le consultazioni che hanno fornito spunti di confronto e di riflessione. Con l'approvazione del nuovo piano faunistico da parte del Consiglio regionale della Campania ed il varo del nuovo calendario venatorio da parte della Giunta, conclude l'assessore all'agricoltura, puntiamo ad una corretta pianificazione regionale in termini di vocazionalità e di destinazione del territorio, garantendo un prelievo sostenibile ed accettabile, così come indicato anche dal presidente De Luca. Poniamo le basi per una gestione moderna del nostro patrimonio faunistico.